Il reliquiario della Madonna delle Lacrime si trova qui nella nostra comunità di Volturino, una parrocchia dedicata a Santa Maria Assunta, perché avevamo chiesto questa presenza, questa visita di grazia già un paio di anni fa, poi la pandemia con tutte le cose che conosciamo, insomma ci ha impedito di fare tante cose e quindi non abbiamo avuto la possibilità di fare anche questa visita, di ricevere questa visita dalla Madonna. Adesso quest'anno finalmente abbiamo ottenuto questo dono e questa visita viene alla conclusione della festa di settembre, nostra festa patronale dedicata alla Madonna di Serritella, nostra patrona e quindi queste lacrime della Madonna vengono a suggellare un po' questa festa, questa solennità, questo amore di questo paese, di questa gente per la Madonna, per la nostra patrona. Ed è veramente, come dicevo primo, un momento di grande grazia perché abbiamo le reliquie dei Santi, c'è qualcosa che ci ricorda la loro presenza, ma della Madonna non abbiamo niente perché la Madonna è assunta in cielo con il suo corpo e con la sua anima e quindi queste lacrime rappresentano veramente qualcosa di suo, stanno a significare veramente il grande amore e la passione che la Madonna ha per tutti quanti noi che siamo Suoi figli. E quindi ecco questo passaggio della Madonna può essere per noi veramente un motivo come è scritto sotto nel reliquiario, queste lacrime della Madonna possano venire a purificare un po' quelli che sono i nostri cuori induriti, da ammorbidire i nostri cuori. Possa essere un richiamo per tanti magari che sono lontani e possa risvegliare la fede di molti che magari ce l'hanno un po' più assopita. È come se Maria si dividesse in due, perché in santuario i pellegrini trovano appunto il quadretto originale, quello che ha versato lacrime umane, mentre in missione va il reliquario che custodisce appunto le lacrime della Madonna e il reliquario va proprio per consolare, per portare la presenza materna di Maria a chi soffre, a chi è nel pianto, a chi è nel dolore. E il reliquario, mi piace vederlo un po' come lo scrigno, che custodisce le lacrime di Maria, ma non solo le lacrime di Maria, ma anche dei figli, di tutti quei figli che depositano le loro lacrime o andando in santuario o il reliquario andando in missione, va a trovare tutte quelle persone che sono appunto provate nella malattia e quindi assume questo significato anche di speranza, perché le lacrime di Maria vogliono essere un invito pressante a riconciliarci con Dio, con gli altri, con gli stessi. Le lacrime di Maria d'altronde sono un invito a ritornare al Padre, proprio come affermava l'Apostolo Paolo ai cristiani di Corinto, è un invito a ritornare al Padre, a ritornare a Dio, proprio come la parabola del Padre misericordioso, per sperimentare che cosa, se non la tenerezza paterna e materna di Dio, che vince il male con il bene, le ingiurie con l'amore e il peccato con il perdono. Una madre piange quando vede i suoi figli divisi a motivi di litigi, di contese, di conflitti che minano appunto la serenità della famiglia. A Siracusa Maria piange perché vede i suoi figli divisi e in guerra gli uni contro gli altri. Allora le lacrime di Maria sono un invito ad intraprendere un cammino di riconciliazione vera, di pace vera, per costruire scale verso l'alto e ponti verso l'altro. Quindi per asciugare il pianto della madre significa iniziare ad essere uomini e donne della riconciliazione, in grado di seminare perdono, ma questo è possibile nella misura in cui anche noi per primi ci lasciamo riconciliare a Dio, ci lasciamo riconciliare con i fratelli. Sono stati giorni di grande emozione perché la gente ha risposto veramente con tanta, soprattutto con l'accoglienza e poi con tanto entusiasmo. I momenti principali sono stati soprattutto il momento dell'accoglienza qui in chiesa, grande emozione quando ho visto proprio la gente piangere quando hanno accolto il reliquiario, poi la visita alla casa di riposo dai nonnini che sono ospitati lì e poi la presenza anche del nostro Vescovo Dio Cesano, Monsignor Giuseppe Giuliano, che con la sua presenza è venuta ancora a dire ancora una volta la vicinanza della Chiesa, soprattutto alle persone bisognose, malate, povere, nel corpo e nello spirito, per insaldare quella che è la fede del popolo. Speriamo tutti che sicuramente sarà così. Questa presenza, questo passaggio della Madonna porterà grandi grazie, grandi frutti di vita spirituale e speriamo anche di vita cristiana, cioè i nostri cristiani, i nostri fedeli possano sentirsi rinvigoriti da questa presenza e trovare la forza per testimoniare nella vita di tutti i giorni la loro fede. Maria Siracusa c'è da dire che non ha parlato, ma si è resa presente col segno delle lacrime. Il messaggio lei ce l'ha comunicato con le scelte che ha fatto. D'altronde no, ogni segno va letto e interpretato alla luce dell'oggi della scrittura e la lacrimazione del cuore immacolato di Maria è venuta all'interno di una famiglia, in un umile casa di lavoratori, lui operaio e lei casalinga, in un contesto urbano storicamente determinato, la città di Siracusa. Quindi Maria non si manifesta fuori dal centro abitato, ma nella città. Quindi Maria piange nel cuore della città e una peculiarità è stata quella che Vegente è stata appunto un intero paese. Piange alle spalle di una chiesa cristiana evangelica e piange, come ho detto, in una città che ha una lunga tradizione ecumenica interreligiosa, crocevia di culture e di fedi Siracusa. Da questo evento, un evento del tutto appunto particolare, perché quello che è avvenuto a Siracusa è una mariofania, una manifestazione mariana. Si distingue dagli altri eventi eccezionali che hanno visto la Madonna come protagonista, perché se a Fatima, a Lourda, a Parigi, alla Salette, la Vergine ha fatto conoscere il suo dolore e la sua esortazione al pentimento. A Siracusa, migliaia di persone, affinché fosse confermato il tutto, si è sottoposta a fredde analisi scientifiche dal laboratorio, perché a differenza di tutte le altre visioni e apparizioni, il prodigio di Siracusa resta comprovato dalla scienza. E da questo evento scaturirono numerose guerigioni, ritenute straordinarie dalla commissione medica appositamente istituita all'epoca. Pensate che furono circa 300 fino a metà novembre del 1953, guarigioni fisiche da paralisi e tumori, ma anche guarigioni spirituali, ovvero le conversioni. E una di queste è proprio quella del dottor Michele Cassola, colui che presideva la commissione medica dell'epoca. Era un medico dichiaratamente ateo, ma molto stimato e onesto nel suo mestiere. Dopo vent'anni, nell'ultima settimana della sua vita, nel 1973, chiese alla presenza delle lacrime, quelle lacrime che lui stesso aveva analizzato. Quando vide il reliquario, se lo strinse al petto e dopo un po' singliozzando, chiese un confessore e diceva, prima vedevo davanti a me come una muraglia invalicabile, ora quella muraglia, grazie al pianto della Madonna, è crollata. Quindi il reliquario diventa punto d'incontro, porta di comunicazione con Dio. Il giovedì santo ricevette la confessione e l'eucharistia, e il sabato santo al suono delle campane durante la veglia pasquale salì alla casa del padre da cristiano convertito, come attesta sua figlia in una lettera. Ma le guarigioni sono continuate fino ad oggi. Ancora oggi riceviamo testimonianze di guarigione per intercessione di Maria. Una, ad esempio, fu una delle mie prime missioni con il reliquario. Una mamma angosciata, sapendo che in quella parrocchia vi era la presenza delle lacrime, vi corse subito. perché era angosciata? Perché sua figlia aveva deciso di abortire e non c'erano, vedete, altre, non c'erano motivi, ragioni per convincerla del contrario. Io l'ascoltai e prima di lasciarla, di concedarla, lei disse di portare il cotone benedetto, il cotone che tocca una volta all'anno il volto della Madonna, quello originale. Lei lo prese e lo portò a sua figlia, stranamente Sofia lo portò con sé fino all'indomani, al giorno del suo intervento. Quando i medici la chiamarono, quando arrivò il suo turno, lei si bloccò, non riuscì più ad entrarvi e, decisa, ritornò indietro. Quindi potete immaginare la gioia della mamma nel vedere Sofia rientrare a casa senza aver compiuto appunto la scelta che aveva deciso inizialmente di fare. Lei la abbracciò e poi corse in parrocchia a ringraziare la Madonna per questa sua intercessione, per aver ricevuto questa grazia da Dio. E come queste tante tante altre ancora. Qui ci troviamo in missione a Volturino e come in tutte le missioni noi portiamo appunto il reliquario della Madonna delle Lacrime. Ci troviamo esattamente appunto in provincia di Foggia. Quindi ci troviamo appunto nella regione, nel paese appunto di Padre Pio. Padre Pio sappiamo che ha un rapporto speciale con il nostro santuario, con la Madonna delle Lacrime. Pensate che ai numerosi siciliani che andavano da lui diceva questo, andate a Siracusa, se la Madonna piange ha qualcosa di importante da dirci. Tra l'altro Padre Pio ha un rapporto speciale anche con la mia vocazione, perché non solo dico la mia vocazione, ho sempre affermato è Mariana e quindi legata alla Madonna delle Lacrime, ma anche con Padre Pio, perché Padre Pio in seminario mi aiutò a comprendere poi quello che era l'importanza della preghiera. Tra l'altro la cripeta della Basilica del Santuario della Madonna delle Lacrime conserva una teca dedicata appunto a Padre Pio, benedetta nel 2015 da Monsignor Michele Castoro. In questa teca sono custodite alcune reliquie del santo, come un pezzetto di panno donato dai cappuccini di San Giovanni Rotondo, con la quale Padre Pio appunto astregeva la piaga del costato. E poi un'immaginetta anche datata al 10 luglio 1961, donata da Monsignor Castoro, sulla quale Padre Pio aveva scritto «Maria, non ritiri mai da te il suo sguardo materno» e poi un fazzoletto dove sono ben visibili le tracce delle stigmate.